Allora signore, adesso mi hanno raggiunto questi passi, per favore conterebbero i tuoi. Io sono caldo, ma questi passi sono buoni. Allora, mi state saluto, se lo parlo è mezza giornata per fare questa parodia di questa... Anche voi sta male, anche voi sta male. Cinque minuti a dare raggiungere i passi e rispetteremo la storia e la passiamo a sinistra. Sta bene, sta bene! Cosa diciamo a papà, eh? E Gerardo era il cartone? No, non c'era il cartone. Abbiamo fatto fare le cartone di acqua. Era buono Gerardo. Cosa? Perché ha preso quello al tollo? E che era il tollo naturale. E io vado a fare un'altra cosa. Ti saluto. La commissione, signorina, non la farà più con una domanda. No. Vada. Allora, vediamo. È veramente... Grazie. Grazie. Sono tutti. Qualc'è che siamo qua in cima? I ammaccati tutti! I ammaccati! Bravissimus! Bravo! 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 Tutti i ammaccati tutti! Gli ammazzati Totto! Tutti li ammazzati io! Guardi, guardi! I tedeschi! I tedeschi! I tedeschi! I tedeschi! Senta, la strazzatella l'ho finita E' chiuso, chiuso, chiuso E' chiuso perchè ci ha messo un'ora Io vado dall'associazione Paginatori, scusi Guarda, guarda! Sentirà cosa le dico? Gellato, strazzatella e limone Buono, buono, buono Non mangia nessuno E basta! E non mi risponda! Scala! Non voglio questa scala! Sì! 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 Sì!